Dicesi Pedemontana, spulciando un qualsiasi vocabolario, un'area che si trova ai piedi di un monte o di una catena montuosa. Una qualsiasi enciclopedia, per esempio una famosissima online, riporta un esempio di Pedemontana, ma di quella bassanese purtroppo non parla nessuno ed è un vero peccato, perché da tempo si parla invece di Bassano come centro vitale di un territorio dalle grandi potenzialità. Ne ha parlato anche la sindaca Elena Pavana alla cerimonia del San Bassiano. Ecco cosa ha detto. Abbiamo lavorato, ho lavorato molto su questo tema. Abbiamo voluto dare concretezza a questo concetto, in linea con la nostra visione di amministrazione del fare, per dimostrare che Bassano è il centro naturale per vocazione di un'area pedemontana. E poi ancora. L'aspirazione degli anni scorsi a diventare provincia, nei fatti, è già consolidata e recupera un ruolo trainante. Bassano è il centro della pedemontana. Già, Bassano è il centro della pedemontana, ma essere centro geografico non vuol dire essere il fulcro di un territorio. E piantare autonomamente una bandierina non vuol dire essere il portabandiera di un'area. Sono in molti a indicare Marostica, ad esempio, come la capitale dello spettacolo della zona e l'altopiano come il punto di riferimento per il turismo assieme al Grappa, Cittadella e le altre aree della marca trevigiana. Certo, Bassano è bellissima e qui l'economia tira, ma da tirare a essere traino ce ne passa. Insomma, il ruolo di leadership e capofila non te lo puoi cucire addosso e la pedemontana è un'area che per ora, a parte sovrastrutture politiche e amministrative, è unita solo dalla strada pedemontana. Ci sarebbe, a dire il vero, un altro elegante che va sotto il nome di Tribunale della Pedemontana. Abbiamo poi impresso un nuovo deciso impulso al percorso di realizzazione del Tribunale della Pedemontana, con un ciclo di audizioni che ha iniziato la prima vera scorsa in città. Già, a proposito, il percorso compirà un anno fra una manciata di giorni e a febbraio scorso si era parlato di un punto di caduta di sei mesi. I sei mesi sono passati da un pezzo e verranno doppiati a breve, ma di novità non ce ne sono e non si è visto neppure in città il ministro della giustizia Carlo Nordio. La sindaca Pavan aveva annunciato un invito per il guardasigilli, però il Tribunale continua a restare un'idea astratta, proprio come la pedemontana.